Buonasera dal TG6, con l'hashtag io sto con Silvia, una cinquantina di manifestanti si sono presentati davanti al Palazzo della Regione, a Pescara in Viale Bovio, contro la realizzazione dell'elettrodotto Villanova Gissi. In particolare l'azione è stata fatta a sostegno di Silvia Ferrante, la mamma di Paieta in provincia di Chieti, alla quale sono stati chiesti 16 milioni di euro di risarcimento e danni da parte di Terna, il servizio di Alfredo Primante. Si tiene di protesta davanti alla Regione per accendere i riflettori di nuovo sull'elettrodotto Villanova Gissi, un'opera che sta andando avanti, la Regione doveva così dare alcune risposte che però non sono arrivate. La Regione Abruzza aveva degli obblighi, intanto che derivavano dal decreto di autorizzazione del Ministero Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente Prima con la valutazione di impatto ambientale e non sta rispondendo anche a numerose segnalazioni che vengono dai cittadini, molto documentate per un'opera molto impattante sul territorio e soprattutto a rischio idrogeologico. Ricordo che 55 piloni su 150, quindi più di un terzo, sono collocati in aree a rischio idrogeologico, quindi o a rischio frane o a rischio alluvione. Non lo diciamo noi, sono le mappe ufficiali a dirlo. Sono piazzati dove arriva il fiume Pescara, dove arriva le frane, in alcuni casi sono frane attive ed è un'altra cosa incredibile che gli enti pubblici stiano facendo i controlli sostanzialmente sulle carte, poi però se uno va sul territorio va sui piedi, sulle frane che incombono sui piloni. Beh, pensare di un'opera pubblica in questo modo è il modo migliore per poi far accadere le tragedie nei prossimi anni. Ci siamo ritrovati a circa 80 metri da casa, alla linea di questo grande elettrodotto. È chiaro che ci siamo cominciati a fare delle domande, ci siamo chiesti che il rischio potesse correre il nostro figlio, appunto piccolino, nell'eventualità di questa grande opera. Si rischiano le uccemie infantili, nessuno ci può dire di stare tranquilli perché nessuno esclude che queste insorgenze non ci siano e quindi abbiamo cominciato a partecipare attivamente alle vicende legate al territorio. Tra pochissimo, il primo di febbraio, ci sarà la prima udienza della causa civile intentata da Terna nei suoi confronti. Sono 16 milioni di euro che sono stati chiesti, insomma, una bella somma. Sì, tra le 24 citazioni, perché non ne ho ricevuta una sola, facendo una media siamo a 16 milioni. La cosa strana è che sia un risarcimento d'anni per la semplice presenza nel momento che viene chiamato dell'immissione in possesso, dove la mia figura è stata totalmente marginale, perché ero lì appunto a testimoniare e chi per legge era l'unico legittimato eventualmente ad opporsi era proprio il proprietario e questo è successo. Tra l'altro mi viene contestato un comportamento violento, se fosse stato quello avrebbero dovuto fare un penale, una denuncia penale. Intanto mi difenderò, che cosa devo fare? Mi sono stata citata, bene, andiamo a giudizio, vediamo che cosa succede. Sarebbe bello andare via, ma uno, con che soldi compro un'altra casa? A due, chi se la compra quella nella quale vivo, visto che c'è questa grande opera? E quindi continueremo intanto a fare tutto quello che è possibile per portare alla luce quello che non va. La Suprema Corte conferma le accuse all'ex preside del convitto nazionale Livio Bearsi. Le possibili rassicurazioni, seppur date dai tecnici della protezione civile, non dovevano essere tenute in considerazione. Nel crollo del convitto morirono tre studenti minorenni. Daniela Rosone. La Suprema Corte di Cassazione, sul crollo del convitto nazionale, conferma le accusi a Livio Bearsi, ex preside della scuola crollata nel terremoto del 2009. Nessuna rassicurazione, in sostanza, anche se giunta da tecnici della protezione civile, doveva essere presa per certa in una situazione drammatica come quella che stava vivendo l'Aquila prima della scossa mortale. In pratica, di fronte a un terremoto in corso, l'unica difesa, si legge nelle carte, è la prevenzione oppure quella di far allontanare le persone di cui si è responsabili da una struttura che non aveva nulla di antisismico. Parole della Cassazione, nel verdetto che, come dicevamo, conferma le accuse a Livio Bearsi. Come ricorderete, nel crollo del convitto morirono tre studenti minorenni. Ne rimasero feriti altri due. Livio Bearsi, in carcere dal novembre dello scorso anno, ha ricevuto la solidarietà di molti e anche la richiesta di grazie al presidente Mattarella. Fu scarcerato un mese dopo e destinato ai servizi sociali. La Cassazione scrive che l'allarme era eloquente. Secondo la Corte Suprema, il terremoto non costituisce per la sua entità un accadimento eccezionale, straordinario e ingovernabile e dunque un evento di tale natura sfuggiva all'obbligo di governo del rischio da parte dei soggetti competenti. I terremoti, anche di rilevante intensità, secondo la Cassazione, in questa, che lo ricordiamo è la prima sentenza definitiva del filone giudiziario post-sisma, sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo e non possono essere considerati accadimenti eccezionali. Con un approccio che deve essere improntato a speciale prudenza e accurata attenzione agli aspetti tecnico-scientifici e alle informazioni direttive che ne giungono. I supremi giudici dicono anche che qualunque valutazione in questa materia va naturalmente rapportata anche a ciascuna peculiare situazione concreta. Eppure il giudice è chiamato a tener conto, come sempre è del resto richiesto, nella delicata valutazione della colpa. Nel caso del crollo del convitto, secondo la Cassazione, si era in un'area a rischio sismico. C'era poi uno sciame sismico in corso che si protraeva da tanto tempo e soprattutto in quella notte già due violente scosse avevano suscitato l'allarme nei giovani allievi ospitati. Un aspetto che ha costituito un particolare rilievo anche nella sentenza. E ora a Pescara. Questa mattina nel Tribunale sono stati ascoltati il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, il consigliere comunale Marco Presutti e la segretaria provinciale del PD Francesca Ciafardini nell'ambito della causa civile intentata dal politico pescarese Gianni Teodoro nei confronti di Enrica Sabatini, capogruppo del Movimento 5 Stelle al comune di Pescara. Teodoro ha avanzato la richiesta di un maxi risarcimento da 250 mila euro per danni morali, biologici, all'identità personale e sociale, alla reputazione, all'onore, al prestigio, al decoro e all'immagine e alla vita di relazione. Sotto accusa le parole pronunciate dalla Sabatini in aula in occasione dell'insediamento della giunta Alessandrini contro la nomina di Veronica Teodoro, figlia di Gianni, nominata assessore all'età di 19 anni. Continuiamo con la cronaca giudiziaria, sempre a Pescara. Ho querelato personalmente circa 30 persone che mi hanno rivolto insulti personali e parolacce sul web. In larga parte si tratta di offese collegate al caso riguardante la gestione della balneazione. Con queste parole il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, questa mattina nel Tribunale Civile, ha rivelato di aver intrapreso azioni penali nei confronti di persone che lo hanno insultato. Si parla della scorsa estate. Restiamo a Pescara. Armando Mancini, medico ed ex assessore comunale, è il nuovo direttore generale dell'ASL di Pescara. Questa mattina la nomina ufficiale da parte della giunta regionale prende il posto di Claudio D'Amario che andrà a ricoprire l'incarico di subcommissario della sanità in Campania. Il servizio di Paolo Renzetti. Armando Mancini, medico ospedaliero, il nuovo direttore generale dell'ASL di Pescara. Succede a Claudio D'Amario che proprio nelle ultime ore aveva presentato le sue dimissioni per andare ad assumere l'incarico di subcommissario della sanità in Campania. Il neo direttore, conosciutissimo nel capoluogo adriatico per essere figlio di Antonio Mancini, ex sindaco di Pescara, e per essere stato assessore al traffico e alla mobilità nella giunta comunale di Pescara, guidata dall'allora sindaco Luciano D'Alfonso. Mancini è un uomo di notevole elevatura, ha commentato il governatore della regione, tanto che lo vogli con me come assessore quando divenni sindaco di Pescara. Oltre a essere una persona competente in materia sanitaria, egli proviene da una famiglia di grande tradizione e di servizio pubblico. Il padre Antonio fu primo cittadino a Pescara dal 1956 al 63 e deputato dal 1963 al 1976 e contribuì, ha detto ancora D'Alfonso, in maniera determinante, assieme al vescovo Antonio Iannucci, alla fondazione dell'ospedale civile di Pescara. Ringrazio il Presidente e la Giunta per questa designazione, ha affermato Mancini, che mi riempie d'orgoglio perché è un onore poter lavorare per la comunità in cui si vive e soprattutto farlo nel proprio settore di formazione. Ho gran voglia di fare anche se il momento per la sanità nazionale è difficile, ma è in questi frangenti che si vede se c'è la capacità dei singoli. Le mie priorità saranno l'assetto del polo riabilitativo a popoli, la riapertura del materno infantile a Pescara e la drastica riduzione delle liste di attesa. Mancato rimpasto a Teramo e il Brucchi Ter non ci sarà. Il primo cittadino ha confermato tutto, sia i nove posti in Giunta, sia le deleghe, sia il Presidente del Consiglio, il servizio di Elisa Leuz. Il tanto atteso rimpasto di Giunta alla fine non c'è stato. Finisce così il lungo periodo di attesa per il Brucchi Ter, un anno di annunci, un anno di rinvii e alla fine nulla è cambiato. In un breve incontro con i consiglieri del suo schieramento, il sindaco Maurizio Brucchi riassume i principali motivi della scelta di mantenere inalterata la squadra con l'argomentazione più scontata, il buon lavoro, a suo dire, fatto finora dalla Giunta e dal Consiglio. Mancato rimpasto che qualcuno ha definito una gravidanza isterica, definizione che il primo cittadino commenta così. Io faccio di mestiere il chirurgo, non faccio il ginecologo, quindi questa gravidanza isterica, non so chi l'abbia definita così, lascia il tempo che trova. Questa Giunta ha la possibilità di lavorare fino alla prossima verifica, la verifica di metà mandato, e vediamo poi quello che saranno i risultati della verifica di metà mandato. È evidente anche la posizione critica da parte di qualcuno dei consiglieri di maggioranza. Ieri tre hanno abbandonato prima la riunione, poco dopo qualche minuto. Ma per motivi assolutamente indipendenti dalla maggioranza stessa, perché poi ho parlato sia con Fracassa, sia con Narcisi, sia con Falasca. Non c'è nessun motivo di natura politica. Posizione critica invece annunciata dal consigliere Campana. Questi anni e mezzo il sindaco dice che tutto bene, invece qualcosa non è andato bene, quindi diciamoci la verità, la gente purtroppo è stufa di alcuni comportamenti e ora bisogna amministrare bene. Io ho chiesto ieri alla riunione di riunirci ogni 15 giorni. Gli assessori devono relazionarci quello che fanno e quello che faranno perché devono condividere con dei consiglieri. Il mancato d'impasto ha anche cristallizzato la situazione attuale che vede il gruppo Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, fuori dalla maggioranza. C'è il problema nel piano urbano del traffico, che è ancora nel cassetto del sindaco. C'è il problema di esternalizzazione di servizi e di impianti sportivi. Una gara che non parte. Il problema della termoambiente, dei 35 cassi integrati che tra poco, alla fine del mese di giugno, si troveranno senza lavoro. Il problema è che anche la Team non trova una soluzione per quanto riguarda il nuovo socio. Ancora di più conferma la posizione di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, fuori da questa maggioranza. Sul nulla di fatto non c'è stupore tra i consiglieri dell'opposizione. È troppo legato a questi schemi politici, alle rotture politiche che mantengono la sua maggioranza ed è prigioniero degli suoi amici politici che l'hanno portato alla vittoria l'ultima volta nella città di Teramo. È chiaro che quando si parla di persone e di sedie, difficilmente si riesce ad attuarlo senza una prospettiva programmatica dietro. Vogliamo conservare i nostri porti e se restassimo con Ancona saremmo condannati a un ruolo di secondarietà mentre con Cività Vecchia assumeremo un primato in collaborazione. Così il governatore della regione Luciano D'Alfonso questa mattina a Pescara ha spiegato l'opposizione della regione Abruzzo al piano della riforma dei porti approvato dal Consiglio dei Ministri. Una riorganizzazione che vede il porto di Ortona inserito nell'autorità di sistema portuale numero 12 denominato Mare Adriatico Centrale con sede ad Ancona e comprendente anche Pescara, San Benedetto del Tronto, Falconara e Pesaro. Dopo 30 anni l'Abruzzo ha un nuovo piano cave. Le novità sulla politica estrattiva in regione sono state illustrate dal sottosegretario della giunta regionale Mario Mazzocca. Dopo 30 anni l'Abruzzo ha un nuovo piano cave. Le novità sono state illustrate questa mattina a Pescara dal sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Mario Mazzocca. Abbiamo cercato di inserire una regolamentazione per quanto ci riguarda il più possibile al passo con i tempi su un tema estremamente sensibile su cui la regione investirà molto il tema della salvaguardia del territorio e sulla sostenibilità dei propri investimenti, per gli investimenti in natura pubblica e anche privata. Si parlava di qualche possibile impatto a livello ambientale, lei si sente di escluderlo? Sì, anche perché non sono previste nuove cave. In realtà sulla scorta degli studi proprietari c'è la base di questo piano cave. C'è la disponibilità di circa 10 anni di approvvigionamento, sia dell'economia borzese che ultraregionale, sul tema edilizia e soprattutto c'è una spinta verso quella frontiera di economia circolare che noi stiamo perseguendo anche sul tema della gestione dei rifiuti. Per intenderci l'idea di riutilizzare attraverso uno o più impianti il sistema del riciclo di materiale proveniente da demolizioni, finché possa essere riutilizzato nell'attività edilizia costruttiva, credo che sia ormai un tema che ci debba riguardare in maniera diretta. L'Unione dei Piccoli Comuni non è d'accordo, ma il Presidente della Prima Commissione Bilancio in Regione afferma che ci potrebbero essere molte opportunità, manca l'informazione corretta e si parla di incentivi all'Unione dei Comuni il servizio. Incentivi per spingere i comuni a fondersi, ma in Abruzzo non accade. Secondo il consigliere regionale Di Nicola e Presidente della Prima Commissione Bilancio, gli amministratori regionali non stanno cogliere le opportunità e sull'argomento c'è ancora troppa poca informazione. L'opportunità è rendere le macchine burocratiche che gestiscono la cosa pubblica adeguate rispetto ai servizi che devono erogare e rispetto alla nuova normativa molto più complicata e molto più complessa di quanto fosse in passato per l'erogazione degli stessi servizi. Si tratta in realtà di raggiungere una soglia demografica alla quale verosimilmente corrisponde anche una soglia di capacità amministrativa intesa appunto come burocrazia, come uffici, come risorse umane, come risorse strumentali rispetto alle quali quindi si possa parlare di cifre mediane più che medie e che ci restituiscono poi un livello di qualità dei servizi in media rispetto alle altre regioni. Ha notizia di comuni che vogliono unirsi in Abruzzo? In verità di comuni sì, qualche comune mi è sembrato anche che abbia scritto quando ho avuto notizia della mia proposta di legge. Sicuramente esistono diversi movimenti civici che coltivano questo tipo di ragionamento nel senso che sono da pungolo rispetto alle amministrazioni comunali per sollecitarle ad iniziative di questo tipo. È chiaro che l'attività di fusione è un'attività che richiede una fase di maturazione prima di tutto nella coscienza collettiva delle comunità che devono avvicinarsi e sono in un secondo momento quindi poi diventa importante la parte operativa. Va però anche detto che siccome a livello nazionale lo scenario in qualche modo è quello e la soglia di riferimento sarà tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, tutto ciò che sarà sotto i 5.000 abitanti verosimilmente di qui a qualche anno... Infatti c'è una proposta di legge nazionale questa volta che non parla più di incentivi ma proprio di unioni forzose, cosa che non piace molto a Lanci. Le d'accordo invece? Sì, ho letto una proposta di alcuni parlamentari del PD che addirittura propone la fusione d'imperio diciamo con legge dello Stato. Ci sono evidenti profili di costituzionalità da valutare e l'Associazione Nazionale e Piccoli Comuni è evidentemente contraria. Il sciopero dei trasporti oggi a Pescara promosso da Faisa Cisale e UGL. Secondo i dati pubblicati dalla società di trasporto unica abruzzese è la tua ad aderire allo sciopero solo il 27% dei lavoratori. Vediamo. Uno sciopero di 4 ore dei bus sulle tratte di percorrenza di Pescara e provincia. Questo era stato l'annuncio promulgato da due sindacati per venerdì 22 gennaio. Faisa Cisale, UGL e Ferrotranvieri. Dalle 9 alle 13 l'orario scelto e nella nota si sottolineava l'incertezza anche dopo le 13. A monte del disservizio ancora una volta i famigerati contratti di armonizzazione tra le tre società fuse nella nuova tua. Nello specifico si parla della non corretta valutazione dei recuperi di produttività riferiti i servizi urbani ed extraurbani. Le due sigle sindacali inoltre avevano sottolineato diverse criticità ancora irrisolte. nonostante la firma dello scorso mese di ottobre, la revisione dei tempi di percorrenza delle corse urbane, suburbane ed extraurbane, i servizi igienici dei capolinea, la segnaletica stradale insufficiente, la carenza di corsie preferenziali, il degrado della sede di pene, la sicurezza dei veicoli e dei depositi aziendali. In tarda mattinata la società di trasporti unificata tua diffonde questi dati. A partecipare allo sciopero è stato il 27% del personale di servizio. Su un totale di 146 addetti se ne sono astenuti 40. Inoltre, precisa l'azienda, alcune delle questioni che i sindacati hanno citato per giustificare lo sciopero sono state affrontate e risolte con il contratto siglato il 26 ottobre. La sicurezza purtroppo non si può transigere e sui numeri io adesso devo verificare, ancora non posso dare perché presto non ho avuto l'occasione di verificare i numeri. Ma sulla sicurezza non si transige. Noi abbiamo fatto una lettera, le quattro sigle sindacali abbiamo fatto una lettera abbastanza forte sia alla Regione sia al Presidente D'Amico. Lunedì alle ore 10 in Regione ci incontreremo e chiederemo conto di quello che non si è fatto fino ad ora. Il Sindaco di Roseto, Ennio Pavone, documenti alla mano, fa chiarezza sulla presunta delibera per il commissariamento della Riserva del Borsacchio da parte della Regione Abruzzo. Il servizio. Abbiamo voluto ricostruire in questa conferenza stampa la storia della Riserva del Borsacchio, dalla prima legge del 2005, la legge istitutiva, tutte le leggi successive che hanno modificato più volte quella legge regionale, fino a quella voluta da questa amministrazione nel 2012 che ha lasciato fuori dalla Riserva per esempio il quartiere dell'Annunziata. E quindi rimane adesso solo Roseto. Giulianova non c'è più dentro la Riserva perché quella parte è stata tolta. Poi abbiamo anche commentato, abbiamo detto la nostra, su questa delibera piuttosto anomala sotto ogni punto di vista che comunque non è stata mai formalmente notificata al nostro comune della delibera dell'aggiunta regionale dove si parla di questo pseudo, tra virgolette, commissariamento. Non si tratta neanche di un incarico professionale perché è un incarico a titolo gratuito e quindi incarichi professionali non possono essere gratuiti nella pubblica amministrazione. Quindi tutto questo porta a noi a fare una considerazione che si è trattato di un atto puramente mediatico e puramente giornalistico e per dar l'idea di un qualcosa che dal punto di vista giuridico e pratico non si può e non si poteva fare. In realtà questa amministrazione in questi quattro anni ha fatto sulla Riserva cose che negli otto anni precedenti non sono stati fatti e che poi, parlo alla riperimetrazione che è stata fatta, parlo ai cartelli che sono stati messi, almeno oggi se uno viene vede qual è fisicamente il territorio. Parlo al comitato di gestione che è stato nominato nell'aggiunta che ha permesso l'adozione di alcuni atti che per chi doveva fare interventi almeno di ordinaria amministrazione dentro la Riserva li ha potuti fare. Parlo anche di incarichi dati a consulenti che stanno lavorando su queste cose e è una trattativa di mediazione che si è dovuta fare anche con i precedenti tecnici incaricati che avevano lavorato e che avevano consegnato il PAN che poi non fu adottato dalla precedente amministrazione per mancanza di numero regale e che hanno diritto anche ad essere pagati. I carabinieri del Comando Provinciale di Pescara, grazie ad una raccolta fondi, hanno donato un sollevatore ai malati terminali all'ospice Buganville dell'ospedale Santo Spirito. Vediamo. Colonnello Piccinelli, oggi siamo all'ospice Buganville dell'ospedale di Pescara perché come arma dei carabinieri avete donato proprio all'ospice qui del Santo Spirito questo macchinario, questo sollevatore per ricordare Lorenzo Trulli. Sì esatto, noi abbiamo organizzato una serata nata così spontaneamente tra i carabinieri perché volevamo ricordare questo Angelo Lorenzo, figlio di un nostro carabiniere e di sua moglie Patrizia. Abbiamo organizzato questa serata alla quale hanno partecipato molti carabinieri e non soltanto. Serata durante la quale siamo stati allietati da un'esibizione musicale di un gruppo, i fanastici di Pescara che sono qui con noi oggi perché anche loro hanno voluto testimoniare con la loro presenza e la vicinanza a questo ragazzo, che io ho avuto peraltro la fortuna e il privilegio di conoscere in maniera molto intensa, quei pochi mesi che l'ho potuto conoscere. Questo gesto è nato così, in maniera spontanea, è stato molto bello perché hanno partecipato veramente tutti i carabinieri, ma non soltanto carabinieri, gente che conosceva Lorenzo e ha voluto esserci. È stata una serata molto toccante inizialmente perché abbiamo voluto ricordare con qualche foto il percorso della breve vita di Lorenzo e poi grazie proprio ai genitori, alla forza d'animo di questi due genitori straordinari, siamo riusciti a passare da questo momento di estrema commozione a un momento di gioia perché la serata è proseguita con il repertorio musicale del gruppo dei fanastici che ci ha lietato per tutta quanta la serata. La vicinanza in questo caso dell'arma è sicuramente da sottoscrivere. Noi non possiamo che ringraziare dell'iniziativa, ringraziare per questo dono di questa apparecchiatura che ci è molto utile e ringraziare soprattutto per le parole e per tutto quello che i genitori ci hanno dato in questi mesi. A soli 12 anni ha scritto un libro intitolato Il Paradiso di Zoe per commemorare la sorella scomparsa per un male incurabile e questa mattina Valeria Mastromurro ha incontrato gli studenti delle scuole medie. Vediamo. Valeria Montemurro, 12 anni, hai scritto questo libro che sta avendo un grande successo, un libro adottato anche in alcune scuole per ricordare tua sorella che non c'è più. Un grande successo partito da un momento molto triste. Sì, effettivamente è stato un momento molto triste perché sinceramente non mi aspettavo che sarebbe finita così perché speravo che la mattina l'avrebbe passata e il giorno dopo che se n'è andata praticamente sono stata in giro per casa dei miei amici e non volevo tornare a casa. Mi faceva effetto vederla che non sorrideva più. Hai scritto questo libro, come hai avuto la forza di scrivere questo libro e se proprio scrivendo questo libro in un certo senso hai avuto la forza per reagire? Scrivendo questo libro sono riuscita a capire che forse è meglio che stia lì sopra perché così non soffre qui in terra. Magari anche lì sopra si è trovato degli amici, sta bene. Magari di tanto in tanto ci pensa a me, viene a darmi una mano anche nei compiti in classe, si spera. Hai avuto anche tanta vicinanza dai tuoi genitori che ti sono stati vicina nello scrivere questo libro? Sì, mamma mi ha aiutato molto anche con la correzione, mentre papà ha fatto le sue critiche dicendomi cos'era che non andava bene. Qui ci sono tanti ragazzi delle scuole di Pescara, sei un po' emozionata però sei insieme a tanti ragazzi che hanno più o meno la tua stessa età e oggi parlerete proprio del tuo libro. Sì, caspita non mi aspettavo che fossero così tanti. Non so, spero di trasmettergli il mio amore per la lettura e un messaggio positivo che tutti quanti si accettino per quello che sono senza voler cambiare. Il tuo sogno per chiudere è quello di diventare scrittrice? Non lo so, probabilmente sì, probabilmente intraprenderò questo cammino cercando di far capire a tutti in un modo stravagante che ognuno sta bene come sta senza bisogno di cambiarsi. Sempre nel ricordo di tua sorella? Oggi si ricorda San Francesco di Sales e come ogni anno l'arcivescovo Monsignor Giuseppe Petrocchi nella festa del patrono dei giornalisti incontra la stampa. Gianmarco Menga Unione di intenti con le istituzioni per continuare il percorso di ricostruzione dei luoghi di culto ma soprattutto del tessuto sociale dell'Aquila. Il ruolo del giornalista come sentinella del popolo, colui che legge gli eventi e li racconta senza ridurli, a mera cronaca, colui che denuncia quello che non va ma che incoraggia allo stesso tempo la gente ad andare avanti e a non abbattersi davanti alle difficoltà di tutti i giorni. Sono questi gli spunti forniti dall'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi nel giorno della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Ad intervenire al fianco del vescovo aquilano anche il presidente dell'ordine dei giornalisti d'Abruzzo Stefano Pallotta che ha parlato della funzione del giornalista con l'avvento dei social network e delle conseguenti insidie di disinformazione. È un appuntamento per tutti quanti noi, proprio per quello che diceva lei, quello di riflettere sul nostro mondo, sull'informazione, anche alla luce delle nuove tecnologie, dei social che stanno trasformando profondamente la nostra professione. È un momento anche di confronto con questo importante settore che è l'informazione della stampa cattolica, che è una parte molto consistente e rilevante dell'informazione in generale nel nostro paese. L'informazione cattolica ha delle associazioni importanti, ha l'unione stampa cattolica con cui noi ci confrontiamo in continuazione, non solo dal punto di vista dell'approdo della nostra professione, che pure è un tema importante, ma anche dal punto di vista contrattuale, della contrattualistica rispetto alle problematiche della precarizzazione della nostra professione e quant'altro. Per cui credo che sia anche quest'anno un incontro importante per tutti quanti noi per riflettere su dove sta andando la nostra professione. Ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B. Tegola Crescenzi per il Pescara a causa della distorsione alla caviglia sinistra. Riportata alcuni giorni fa, il difensore dovrà osservare uno stop che va dalle 3 alle 4 settimane al suo posto Fiamozzi con Zampano dirottato a sinistra. Non è ancora arrivato il transfert per verde e maggiori problemi di formazione per il tecnico degli Umbri Bisoli che dovrà rinunciare agli infortunati del Prete, Guberti e Parigini, agli squalificati Belmonte e Zebli. In dubbio Ardemagne nella seduta odierna si è fermato anche Drolee mentre il neoquisto Bianchi è stato provato fra i titolari. Tornando al Pescara ieri si è messo in evidenza nella partitela di allenamento l'argentino Joel Acosta, giocatore argentino della scuola Boca Junior. Vediamo. Joel Acosta, argentino uno degli ultimi arrivati in casa Pescara. Intanto quali sono le tue condizioni? Puoi subito scendere in campo, c'è ancora da attendere. Quali sono le tue caratteristiche? Le mie caratteristiche? Mi piace giocare all'esterno, per esterno, fare l'esterno sinistro, l'esterno destro, anche il trequartista. Sono un calciatore un po' veloce, mi piace avere la palla sempre in piedi, allora fare giocare alla squadra. Senti, le tue condizioni quali sono? Sei già a disposizione? Devi fare un richiamo di preparazione? No, abbiamo già fatto due settimane di allenamento troppo forte, ora io credo di piano piano stare pronto per il mister. Ho già giocato nella primavera, ho fatto qualche minuto, mi ho sentito abbastanza bene, spero di stare bene quando il mister ha bisogno di me. Senti Joel, non è la tua prima esperienza in Italia, hai già fatto un promenio nel Napoli, sei stato nel giovanile del Siena, hai qualche rimpianto di quelle esperienze? Sono esperienze che ti fanno crescere, io credo che questo mi ha insegnato per affrontare questo che viene ora con il Pescara, perciò ho detto, diciamo che ho preso un po' di esperienza e spero di poter portare tutto quello nel campo qua a Pescara. Sono molto felice di arrivare a una squadra così, che sta facendo tanto bene e che ha fatto tante vittorie così di seguito. Perciò io mi sto allenando bene, tratto di dare il meglio di me e quando il mister ha bisogno di me trattarò di dare il mio contributo per la squadra. E ora la Virtus Lanciano. Sono i movimenti di mercato ad animare la vigilia di Ascoli Lanciano. Ieri la società rossonera ha messo a punto l'acquisizione dell'attaccante Federico Bonazzoli dalla Sampdoria, un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. E del portiere Alessio Cragno del Cagliari, un prestito secco. Il primo indosserà la maglia numero 10 ed è convocato per la gara di domani. Cragno invece sarà a disposizione solo da lunedì assente. Bacinovic in cabina di regia agirà il giovane Vitale. L'Ascoli ha acquistato dal Como il giovane centrocampista sloveno classe 95 a Benedicic che ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2018. Bellomo invece è andato al Vicenza via Chievo. Ascoltiamo ora le parole del tecnico ascolano Davis Mangia che presenta così lo scontro diretto del Duca. Vediamo. Il Lanciano ha cambiato molto in questo calciomercato invernale. Ha cambiato anche Modulo 3-5-2, è speculare al suo. È arrivato anche Bonazzoli. Che squadra andrete ad affrontare? Una squadra che chiaramente qualche modifica, come hai detto tu, ha fatto sul mercato. È una squadra che arriva da una vittoria. È una squadra che ha cambiato. È una squadra che ha delle ottime qualità. Sappiamo che è una gara difficile e sappiamo anche che noi dobbiamo affrontarla con l'atteggiamento giusto. Vogliamo parlare sempre dell'infermeria. Come stanno in particolare Giorgi e Milanovic? Li ho convocati. Poi vediamo domani come stanno. Fuori alla fine per problemi rimane Canini. Ci saranno Lanni e Svecaucas, non Ragni perché ha preso una botta ieri su una coscia. E gli c'è formato un po' un ematoma. Andiamo parlando del pubblico, è uno scontro diretto, tutti e al del 2. Sì, è chiaro che noi in questo momento non siamo nelle condizioni di poter chiedere perché siamo in debito. È chiaro questo. L'unica cosa che mi sento di dire, mi sentirò di dire sempre, è che noi abbiamo bisogno della nostra gente. Per poter migliorare e per poter crescere noi abbiamo assolutamente bisogno della nostra gente. Posso solo dire questo in questo momento. Ora la Lega Pro, un venerdì di vigilia per il Teramo che domani alle 17.30 sfiderà il Pisa di Gattuso che cerca l'aggancio in vetta alla classifica dove c'è la Spal che ha tre lunghezze di vantaggio. Ancora una volta non convocati i giocatori sul mercato, Altobello, Monni e Da Silva, anche se non al massimo. C'è regolarmente Petrella, Ballottaggio, Moreo-Lenoci per un posto accanto a Forte. Probabile anche l'inserimento dal primo minuto di Cruciani e la presentazione nel match di domani nelle parole del tecnico Vivarini. Ma questo è un campionato molto diverso da quello dell'anno scorso. È un ragionamento che abbiamo fatto già dall'inizio con la squadra, però la compattezza di squadra lo si ottiene con una grandissima umiltà. Soprattutto il gruppo deve capire che deve avere un'applicazione diversa per la fase difensiva. In questo momento qui lo stiamo facendo molto bene. Ed è un campionato, come dicevo all'inizio, è un campionato diverso dall'anno scorso proprio perché la maggior parte delle squadre curano molto, molto, molto la fase difensiva. Abbiamo visto l'Ancona domenica, ma anche la Spal che è prima in classifica. Noi lì abbiamo fatto la partita noi, però loro sono stati molto, molto attenti alla fase difensiva. Quindi è un qualche cosa che noi purtroppo dobbiamo fare anche noi, perché altrimenti rischi di fare una sciocchezza, un piccolo errore e poi comprometti il risultato perché è difficile far gol alle squadre tutte chiuse nella propria metà campo. Il Pisa è molto cambiato dal girone d'andata, sia a livello di modulo e di atteggiamento. Però è chiaro che io ho visto le ultime tre partite, anche loro curano l'aspetto difensivo in un modo maniacale. Io già so che troveremo pochissimo spazio. Il risultato molte volte in questi casi qua viene fuori da episodi, da piccoli errori, da piccole sfumature che ti possono far prendere oppure far gol. Noi da parte nostra la bravura che dobbiamo avere è quella di essere concentratissimi a non concedere piccole disattenzioni, piccoli errori, perché ci può costare caro. Troveremo una squadra motivatissima che in questo momento qui è l'unica squadra che ha fatto più punti di noi in casa. Quindi è una partita difficile, però come dicevo all'inizio è molto stimolante. Quindi possiamo trovare anche delle risorse nascoste che ancora non mettiamo in campo e portare a casa il risultato. La fiaccola del maestro aquilano Raimondo Tiberio illuminerà i mondiali studenteschi di Scimprogramma all'Aquila dal 22 al 27 febbraio. La torcia fatta di rame ottone cesellata ha debuttato questa mattina a Pescara nella Torch Run. Vediamo. Accensione della Torch Run questa mattina dinanzi al palazzo della provincia di Pescara. Professoressa Rolandi, di cosa si tratta? Che cos'è questa manifestazione? Dunque la Torch Run è una manifestazione studentesca di promozione di un'altra manifestazione molto più grande che si terrà tra un mese esatto all'Aquila e saranno i campionati mondiali di sci a livello studentesco. In questa giornata i ragazzi di tutte le scuole della provincia di Pescara partecipano ad una staffetta passandosi una torcia olimpica che idealmente arriva da fuori, parte dalla provincia di Pescara per arrivare poi alla provincia di Chieti, di Teramo, fino a concludersi all'Aquila dove ci saranno questi giochi. I ragazzi si passano la torcia per tutto un percorso cittadino, via Firenze, via Cesare Battisti, via la Regina Margherita fino ad arrivare a Piazza Salotto dove ci sarà l'accensione del bracere davanti alle massime autorità. Una manifestazione che coinvolge diverse scuole della nostra regione? Si, coinvolge le scuole della provincia di Pescara dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado e ogni scuola è rappresentata da dei tedofori che si passano questa fiaccola fino ad arrivare a Piazza Salotto. Il Tg6 si conclude qui il prossimo appuntamento con l'informazione e torna domani puntuale alle 14. Buonanotte. Il Tg6 si conclude qui il prossimo appuntamento con l'informazione e torna domani puntuale alle 14. Buonanotte. Il Tg6 si conclude qui il prossimo appuntamento con l'informazione e torna domani puntuale alle 14. Buonanotte. Il Tg6 si conclude qui il prossimo appuntamento con l'informazione e torna domani puntuale alle 14. Buonanotte. Il Tg6 si conclude qui il prossimo appuntamento con l'informazione e torna domani puntuale alle 14. Buonanotte.